Il campionato è alle porte. Il 6 settembre l'Aquila Calcio 1927 affronterà in casa allo stadio Fattori la Pistoiese, avversario che già conosce dalla scorsa stagione, poi fuori casa contro l'Arezzo. Mister Perrone sa bene che la stagione che lui e i suoi ragazzi affronteranno sarà molto dura e indipendentemente dai calendari, l'Aquila dovrà pensare solo a se stessa e a far bene. C'è ancora l'incognita dei processi che sono in corso, noi adesso non sappiamo ancora quanti saranno i punti che ci daranno, se poi ce li daranno, quindi a maggior ragione ogni occasione, ogni partita che mette in palio tre punti deve essere un'occasione che noi non ci dobbiamo lasciare scappare per cercare il prima possibile di arrivare in una zona buona di classifica. Il calendario, le squadre bisogna prima o poi affrontarle tutte, quindi affrontarne una prima di un'altra è sempre relativo. La squadra ad oggi necessita di rinforzi, entro il 31 agosto ci saranno sicuramente altri movimenti, non si esclude il ritorno in rosso-blu del difensore Giordano Maccarrone. E continuano intanto a piacere anche i due del Pescara, Milicevic ed Esposito. Quest'ultimo sembra essere davvero vicino al club del patron Chiodi. La serenità della preparazione ora va trasferita in grinta e risultati sul campo, ha detto il mister Perrone. Abbiamo fatto il calcio d'agosto, diciamo con risvolti, con chiaroscuri, abbastanza bene con l'Arezzo, male con il Novara, diciamo nella seconda parte. Abbiamo fatto delle amichevoli che poi lasciano il tempo che trovano. Noi dobbiamo essere pronti per la prima parte di campionato e mantenere una certa condizione e uno stato mentale per tutto il campionato. Quello che chiedo alla squadra è di non mollare mai su ogni palla e in ogni partita.